Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Evoluzione ancora incerta per quello che riguarda le condizioni meteo per la prossima settimana, con l'anticiclone e il maltempo che si contendono l'Italia. In particolare, stando alle ultime uscite dei principali modelli, una vasta perturbazione sprofonderà sulla penisola iberica nel weekend, lambendo solamente il nostro paese. A seguire, il modello americano vede l'isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale, la quale poi si muoverebbe verso la Sardegna e successivamente verso la penisola. In tal caso, la prossima settimana si aprirebbe con maltempo intenso special nord-ovest sulla Sardegna, mentre altrove l'aria calda farebbe salire le temperature ben oltre le medie. Acquazioni e temporali poi interesserebbero tutta Italia nella seconda parte della settimana. Di diverso avviso il modello europeo, che invece vede la goccia fredda insistere tra Portogallo e Marocco, con una risalita di aria calda sulla nostra penisola, ma anche tempo generalmente asciutto. Se così fosse, non si esclude che in quota le temperature possano raggiungere anche i 16-18 gradi special sud. Seguite quindi tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometrio Italiano.